il fatto che ci abbiano sorpresi da soli in un albergo di notte e non vuol mica dire il 32 aveva suonato ho vissato la volta ho sentito rispondere a volte se tu mi avessi perduto cosa avresti fatto se si potessero vedere le donne vent'anni dopo nessuno si sposerebbe vent'anni prima io la lava dentro, lava ribollente, mi manca solo il cratè sono attaccato, vabbè da loro la porta è quella la eh, quella la eh no 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 ma non ancora allora dovete andare in quella porta lì eh è inevitabile il marito? è l'amante di mia moglie lui? non è vero niente, vieni fra le mie braccia siete brutto ma sapete parlare al cuore delle donne? grazie oh anzi non vi ho aspettavate di vedermi?